Un augurio e due speranze. L'augurio è che tutto vada per il meglio, che sia una serata di festa per tutti. Le speranze. La prima è che sia una bella partita, si giochi bene, ci si diverta, eccetera. La seconda è una speranza evangelica. Il Vangelo ci dice che gli ultimi saranno primi, i primi saranno gli ultimi. Attualmente sembra che il Milan sia ultimo rispetto all'Inter e speriamo che questa sera si realizzi la parola evangelica.